Più o meno con l'uscita di Limbo si è venuta a creare un nuovo moderno modo di concepire i platform legandoli al mondo dei puzzle. Uno degli esempi più recenti è stato il fiabesco Unravel, ma quasi per fare da contraltare a questa avventura sognante e solare è arrivato Little Nightmares. La propria abilità sui tasti si accompagna alla risoluzione di enigmi ambientali, portando avanti una vicenda lasciata volutamente in ombra che prenderà immediatamente le tinte di un survival horror atipico ma funzionale. Nel nuovo gioco sviluppato da Tarsie Studios non c'è una trama come la concepiamo normalmente. Controlleremo una piccola bimba con un impermeabile giallo che lascia allo scoperto solo due piccole gambette e qualche leggerissimo lineamento del volto. Nel gioco non ci sono dialoghi e le uniche linee di testo che compaiono riguardano alcuni semplici tutorial che indicano i comandi. Molti tassi del controller rimangono inutilizzati poiché le azioni ad essi dedicate comprendono il salto, la corsa, l'abbassarsi e l'afferrare oggetti o sporgenze. L'ultima azione eseguibile corrisponde all'accensione e allo spegnimento di un accendino che con la sua flebile luce illuminerà i luoghi oscuri che dovrete esplorare. Non troverete alcun indizio concreto su quello che sta succedendo, ricordando per questa scelta il mondo misterioso e oscuro di Dark Souls. Ciò contribuisce a farvi sentire persi e aumenta l'immedesimazione, ma non risponde alle domande più che lecite che sorgono mentre si procede. Il gameplay di Little Nightmares si basa principalmente sul trovare un modo per superare una stanza dopo l'altra. Capire come muoversi nella zona appena raggiunta, interagendo con pulsanti, leve, oggetti a terra o semplicemente trovando una strada alternativa, sarà sempre il vostro obiettivo. La varietà è garantita da un buon level design e dalla presenza di creature che non vedono l'ora di catturarvi. Questi mostri deformi, che ricordano solo parzialmente degli esseri umani, si muoveranno per le stanze e interagiranno con gli elementi in esse presenti, fin tanto che non sentiranno o vedranno la piccola protagonista. Toccherà a voi distrarli quando possibile e soprattutto scappare a gambe elevate sperando di non essere acciuffati. Queste sezioni in particolare mettono in mostra una vena trial and error piuttosto marcata che obbliga a ripetere diverse volte una sezione prima di capire cosa bisogna fare e in seguito riuscire a metterla in pratica. Così facendo viene a galla però un altro problema che francamente può creare parecchia frustrazione. I caricamenti. Essere acciuffati e incorrere in un game over diventa spaventoso per i motivi sbagliati quando, dopo un'inquietante animazione, si scopre di dover guardare una schermata interamente nera anche per più di 40 secondi. La versione da noi provata è quella Xbox One e non so dirvi se questi infiniti tempi di caricamento affliggono anche le versioni PC e PlayStation 4, ma sperare in una patch, possibilmente già dal day one, aiuterebbe moltissimo la fruizione. Fin dalla sua presentazione Little Nightmares ha colpito un po' tutti per via di una caratterizzazione eccellente del mondo di gioco e dei suoi protagonisti. Il mondo distorto in cui sono create le ambientazioni e i nemici brilla ancora di più grazie ad un uso delle luci magistrale, sia quando queste sono già presenti nell'ambiente, sia quando le ombre vengono diravate dall'accendino in dotazione. Le animazioni degli antagonisti sono deformi quanto chi le esegue, mentre quelle del nostro avatar appaiono piuttosto goffe impacciate, rispettando la natura impaurita della bambina. Da questo punto di vista si può notare che i controlli non sono proprio puliti e precisi come ci si aspetterebbe e in alcuni casi si muore anche per questo motivo, ma se non fosse per i lunghissimi tempi di restart non sarebbe un problema. È stato poi fatto un ottimo lavoro anche sul versante sonoro, specie per quanto riguarda i suoni ambientali che creano la giusta atmosfera, accentuando il pericolo quando serve e permettendoci anche di ricevere indizi utili su come procedere. Ma infine è segnalato che l'avventura è da considerarsi piuttosto breve e può concludersi in quattro ore circa. Senza dimenticare la natura indie di Little Nightmares si può affermare che in termini di gioco non offre particolari variazioni su quanto già vista altrove, ma in termini di esperienza globale propone qualcosa di davvero unico. Il continuo e forse un po' eccessivo senso di mistero che permea l'avventura è reso magnificamente dal design di luoghi e creature da superare, tra sezioni platform, altre puzzle e altre ancora da vivere in chiave stealth. Nessuno di questi segmenti è perfetto in termini ludici e di controlli, ma il loro insieme funziona. Le dinamiche trial and error non sono il massimo, specie per via di caricamenti infiniti che andrebbero abbondantemente accorciati e la longevità avrebbe beneficiato di qualche sezione in più, però alla fine ci si appassiona e la voglia di proseguire rimane alta. Chi ama le atmosfere forti lette in chiave platform puzzle può procedere all'acquisto senza ripensamenti. Anche grazie ad un prezzo di vendita più che adeguato di circa 20 euro che rende estremamente appetibile una produzione che speriamo di rivedere in futuro, magari con un budget più alto, per esplorare meglio questo distorto mondo da incubo. Grazie a tutti per aver guardato il video, grazie a tutti per aver guardato il video.